Cocktail alla frutta, analcolici chiaramente, a base di arancia, ananas, fragola. Cocktail rigorosamente analcolici per giovani e giovanissimi che in questa discoteca dell'Alto Casentino hanno potuto vivere una domenica pomeriggio appunto senza alcol. Mi sento di fare il promotore, un po' la prepista su questo tema, diciamo anche per i colleghi di Arezzo di tutta la Toscana, diciamo, per, diciamo, educare i giovani appunto a un divertimento nuovo, a un divertimento più sicuro, più tranquillo, senza bisogno di eccedere, magari dalla prossima abbiamo anche il programma di fare questa pericena sempre con gli analcolici, i giovani magari si possono trattenere anche fino alle 8, le 9, cenare in discoteca e poi magari tornare a casa, rilassarli, andare a letto e pronti per il lunedì mattina per la scuola. Io credo che sia una bella iniziativa, anche perché la domenica non sanno mai cosa fare, se viene gestita in maniera adeguata io sono d'accordo, insomma. Proviamo, vediamo poi cosa dicono tutti i ragazzi. Grazie.